E poi è inutile cercare l'amico perfetto, basta cercare la persona che ci tenga stretti senza farci scricchiolare, quella che colpisca senza scheggiare, quella capace di curarci gli occhi, di ammaestrare la confusione del cuore, di prendere senza pretendere, di fermare il proiettile a un soffio della pelle, una persona che allontani gli incubi e riempie i sogni.